c'è questo giro un pazzo, ancora uno, ancora uno non filo io non filo io ecco dai dai non filo io non filo io non filo io non ha mai vissuto momenti magici così il cavallo pare che c'è molto sbagliato dai e quindi è un po' sotto e io ti si vede però è il cavo elettrico che fa il suo movimento c'è un cavo elettrico con il libero non vuole essere il cavallo chi è strano guarda ha fatto anche rumore però però invece delle serpe giure ci vuole il tuo oro non sei tutto dovrebbe essere anche di tutto eh ahahah oh sta venendo i convulsioni tu hai fatto sei cavallino però è lì qua tutto il video sì sì tutto quanto ahahah Ehi, andiamo! Da iniziamo, cavallo, andiamo su! E tu ci fai felice. Andiamo... no non andiamo a bere no basta non andiamo a bere